Ciao ragazzi Buonasera Sembra una pazza stasera ragazzi Capelli da patto Buonasera, 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 buonasera Ciao Claudio, non andare via che è alle 23 e mezzo Ciao Valentina mia Ciao ragazzi Allora oggi sono andata al mare e mi sento ragazzi Mi sento bollente Mi sento bollente Mi sento bollente qui Ho messo la crema solare però mi sento tutta Grazie Claudio Ragazzi 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 E arrivano le notifiche Ho aggiornato l'app speriamo Intanto qua crolla tutto ragazzi Ciao Ale Ragazzi che bello avervi qui Quindi ti senti hot Ciao Davideino mio Si vede che hai preso un avocado Però ho messo la protezione stamattina ragazzi Però solo che mi sento gli occhi caldi caldi Come se avessi preso il sole negli occhi Ciao Romina mia Buonasera ragazzi Buonasera 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 Buona 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 sera Ciao piccoli State tutti bene? Avete trascorso una buona domenica? Possiamo dire anche Stasera la più bella assolutamente si Lo diremo da qui e per sempre Buonasera Anna Sì ragazzi come sempre Come sempre Come sempre Io alle No Claudio In che senso si è andato Non ho capito se sta tutto il giorno a dormire Ragazzi io ve lo dico È tosta stasera Morto tosta Ciao Melania Buonasera a tutti ragazzi Buonasera piccoli Ah già è vero Tu ieri sera quando mi hai chiesto la live Stavi in servizio Hai ragione Tu stanotte risvegli È vero è vero Grazie Guardate cosa ho fatto lì Sì sì Mobiletto ho comprato Grazie al vostro supporto E lì ce n'è un altro Ecco qua Ciao ragazzi Buonasera Non andate via Perché alle 23 Ci sarà il match ufficiale Con Edoardo Vi siete registrati in tantissimi Più di 500 Mamma mia Che è Una sfida al Colosseo raga Buonasera 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 a tutti Ciao Jasmine O Yasmin Ciao tesoro Sull'evento Sull'evento Basta che vai sull'ultimo video Ti registra l'evento Ma se rimani in live Alle 23 Assisterai Ciao piccoli Grazie Grazie Che noi con basse donazioni Come fanno gli altri Ecco Ciao raga Buonasera 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 Grazie Grazie per la rosa Grazie Margarita Ciao Silvia Alle 23 Alice Grazie 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 Ciao Ciao piccoli miei Ti faccio sentire il suono della rana Porta fortuna Che croc della rana Eccola Ciao ragazzi Ciao 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 Tiziana Buonasera Buonasera raga Quando ci saranno i guantoni ragazzi lasciate spazio per chi farà donazioni grosse perché altrimenti il guantone chiappa cioè non è che lo fa automatico però di solito tende a dare per 5 alle donazioni più piccole buonasera ragazzi buonasera a tutti Sì Pantera Si chiama Edoardo Sfidante Ciao Laura Buona 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 sera Ciao Ciao ragazzi Raga c'è qualcuno c'è qualcuno tra voi che può andare da Sandra a SMR e avvisare che non sto facendo match stasera perché ho il match ufficiale potete andare a dire a Sandra che ho rifiutato l'invito per il match ufficiale per favore perché mi ha appena invitato Sandra con primo io ho dovuto rifiutare grazie ciao Gaetano con le donazioni si vince nei match buona sera buona sera piccoli buona sera a tutti grazie Wendy holà ciao benedetta ciao benedetta viola glute ciao ragazzi ci siete ragazzi dei guanti grazie adele grazie grazie scina ah ok non fa niente puoi mandare la nebbia con l'altro profilo puoi tornare su questa benedetta non fa niente non c'è non c'è alcun tipo di problema puoi fare puoi utilizzare quello per la nebbia e poi oddio veramente Claudio o cla alla fine cla claudio se è vero ciò che hai detto alla fine claudio mi raccomando bravo perché perché dall'altra parte non pretendo di vincere sapete bene che su tre match due le ho persi e uno l'ho vinto però pure io voglio dare il senso di io sono abituata ormai raga nel senso che questo è il quarto speriamo dai speriamo Claudietto grazie grazie e si scala la classifica si vincono i premi che può mettere in palio tiktok che possono essere diversi quindi se volete dare una mano all'asmr a vincere e a salire la classifica con gli eventuali premi ve ne sarò grata alle 23 grazie Claudiello allora intanto che ci prepariamo per il match andiamo a mettere del siero rinfrescante rimpolpa rimpolpante sul viso i guantoni moltiplicano le donazioni per 5 quindi quando ci sono i guantoni lasciate che il guantone lo utilizzi lo utilizzino quelle persone che vogliono donare tanto perché così acchiappano la donazione grossa per 5 un conto è moltiplicare la rosellina per 5 che è 1 e diventa 5 punti è un conto un punto per esempio da 1000 1500 che diventa 5000 e via discorrendo insomma si prova tentiamo ragazzi perché l'altra volta se avete notato i guantoni quando sono arrivati peccavano solo le donazioni piccole per 5 buonasera Gianluca ragazzi dei guantoni ci siete e delle nebbie riassunto torno c'è piccolo lì c'è quattore c'è grande sì bisogna poi cliccare su quattore per la tornazione grande torna così davide perché così possiamo aumentare i punti grazie dei simili poi quando andiamo a conoscere il mio sfidante che si chiama Edoardo vi invito ad abbassare il volume degli auricolari del telefono perché lo sfidante da che io sappia non fa ASMR quindi non vorrei visto un'aste alle orecchie ok perché ci presentiamo prima e poi ci mutiamo ciao Malak dura 20 o 25 secondi la nebbia ciao ciao Dario esatto non partite con le donazioni subito ragazzi specialmente quelle grosse quelle grandi perché dall'altra parte si fanno i conti ciao Malak a dopo Dario comunque vada è sempre una vittoria ricordatelo sempre la nebbia oscura per 20-30 secondi oscura il punteggio all'avversario e si butta sempre verso la fine la nebbia no? perché lì ha senso verso la fine si butta la nebbia ciao Sofia no ragazzi tanto inizia troppo non vi addormentate i guantoni li potete buttare tutti subito tanto partono scade uno inizia l'altro scade pure che ne so tu che ne so alle 2 nei 5 per dire li butti tutti a 5 da soli vanno poi una alla volta raga mi sento il sole negli occhi ho preso il sole pure nelle palle degli occhi oggi tra 3 tra 13 13 13 13 13 13 13 13 13 minuti il mio sfidante ancora non è in live questo la dice lunga sul fatto che si è organizzato bene ragazzi si è organizzato bene per non essere in live a raccogliere gente vuol dire che è arrivato già pronto quindi per quello vi dico andata la mascara ok raga non entrate nei portali non entrate da nessuna parte se buttano portali ragazzi sono uno specchio per la lotule eppure forzieri raga perché il forziere si apre dopo tre minuti non entrate nei portali se arrivo le pubblicità non ci interessa ciao Sietta ciao Giosi ciao gemella alle 23 buonasera buonasera a tutti ciao Dio beh un po' si però sono preparata al fatto che posso anche perdere tanto li ho già persi altri però mi serve per lo vincere grazie Emanuele mi sto lavando i denti così quando vado dello sfidante ragazzi ho i denti puliti che è scritto Davide è ormai la chat con la veloce scrivete Claudio non prendere sonno sai Claudio non prendere sonno sai e se non ti piace Smigol cambio a live comunque non lo faccio per tutta la serata il siero e in basso a destra c'è scritto ricarica ragazzi ci sono i ragazzi che hanno i guantoni e le nebbie non ci sono le persone in live che di solito mi sopportano stiamo proprio nella cacca ragazzi ciao hai appena fatto addormentare mio figlio ok Smigol sono contenta ragazzi quei guantoni ci siete io faccio Smigol da quasi quattro anni il 29 settembre festeggio quattro anni ti so soli ti so soli qui qui che c'entra Twitter ragazzi coi guantoni e le nebbie ci siete palesatevi ragazzi grazie per il like per me appunto la zanzara ragazzi oggi proprio qui 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 in questo punto qua qua cioè capito io avevo la coda alta ma appunto qua proprio qua si chiama Edoardo il mio sfidante come guido e arrivo cla mi vuoi far venire un infarto stasera come guido e arrivo cla proprio mo devi guidare fermati tesoro io ti ho conosciuta su YouTube il 20 agosto sarebbe oggi però ti seguivo dal 2020 ciao Ivana ragazzi ragazzi del quantone della nebbia ci siete Ivana tu avevi un quantone forse si no non fa smr il mio sfidante no non sono di legge piccoli comunque non riesco cioè non mi compare da invitare Edoardo speriamo che mi inviti lui a questo punto grazie Dio clà dove sei in autostrada che paura e poi facciamo lo speed painting che ti piace tanto grazie si moltiplicano i punti che donate con il contone non troppa ansia normale cioè se ho ansia tra cinque minuti ragazzi ciao ciao ragazzi no ancora no non lo so se è in live grazie Angelo lo vedo non disponibile non lo so che vuol dire ragazzi non lo so forse è in live comunque non lo posso invitare forse mi invita lui è in live ok buono allora probabilmente mi invita lui grazie Francesco meno cinque minuti Claudio moto e acquida ok 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 ragazzi lo so ragazzi ma non sto facendo match stasera perché c'è il match ufficiale lo farò tardi prima di andare su twitch capito grazie Emanuele tesoro mio lascia le donazioni che mi vuoi fare per se ti va per la live che si terrà fra cinque minuti per il match che si terrà fra cinque minuti si chiama Edoardo lo sfidante ragazzi sì questo è il quarto uno l'ho vinto due li ho persi ho aggiornato TikTok quindi le cose dovrebbero andare bene dal punto di vista di spettatori ragazzi mi stanno mangiando letteralmente le zanzare da tre quattro giorni alle gambe sono piena di punture cioè non mi mangiavano così da almeno due estati sono state le ultime due estati che non mi hanno punta c'è proprio una puntura ogni tanto ma da quando è iniziata l'estate mi hanno cominciato ad aggredire ma ma proprio mi stanno mangiando ciao ragazzi buonasera grazie per essere qui sì però non so dove è finito Claudio la scuderia scuderia Claudio ci sei ha detto che sta guidando raga andate a chiamare scuderia aspettate un attimo ok aspettate un attimino io invito tutti quelli che ho qui sicuramente state pure in live voi però vi mando lo stesso l'invito aspettate un attimino ok ok mi raccomando ragazzi abbassate poi il volume degli auricolari perché anzi abbassatelo che lo invito io a Edoardo no mi invita lui e non è ancora disponibile perché dall'altra parte lo sfidante non fa ASMR ok ragazzi Claudio Scuderia è sparito il mio amico Claudio è sparito Davide vai a chiamare Scuderia Autonomo Sensory Meridian Response ok invitiamo Edoardo lo invito io buonasera ciao Mary ciao Edoardo scusa mi sapevo che non facevi ASMR però lo stesso mi sono saltata piacere mio Maria Giovanna altrettanto ragazzi non posso sono in match ufficiale adesso ascoltati volevo chiedere giocate con i guanti vero? sì sì con la nebbia se c'è no 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 non è un problema le persone che non è un problema perché non hanno tutti la possibilità di entrare allo stesso orario se ci sono li usiamo altrimenti no va bene Mary Jane non posso tesoro io ti auguro ti auguro in bocca al lupo anche a te per tutti i tuoi e per te ok ok quando vuoi sono pronto ok iniziamo allora in bocca al lupo vai invitami tu visto che ti ho invitato io nel match inviti tu ti muto però eh così io continuo a fare ASMR in bocca al lupo a dopo ragazzi dove è Claudio? Claudio Scuderia ragazzi dobbiamo essere forti mi raccomando forti e tenaci continuo a fare ASMR ragazzi grazie mi raccomando raga per le donazioni che non ti metto a me sì ma purtroppo non vedo in live le persone che ce l'hanno Veronica Benedetta ce l'ha però gli altri che li hanno accumulato non li sto vedendo scrivere non ho idea ragazzi sfida di velocità 40 secondi di tempo per il per due c'è il quantone utilizzate il quantone solo per le donazioni grandi ragazzi servono 12 donatori diversi per far partire per due utilizzate il quantone raga utilizzate il quantone che ci stanno superando grazie Giusy tesoro mio Valentina grazie Vanessa Stefano ragazzi grazie grazie Veronica Ambra Cash Cash Pamela grazie ragazzi è già 3 tonomila il nostro sfidante ma dov'è? Claudiello raga Claudio non c'è se ne è andato c'è un altro quantone raga siamo bassissimi mamma mia mi accomodo mamma mia la ruota buona grazie Sonia Dio grazie grazie ragazzi madonna quanti punti di là Dio raga quanti punti sono scioccata eh l'abbiamo capito ma noi lo ci arrendiamo aspettiamo Claudio se arriva Claudio ragazzi mandate gli altri guanti utilizzate i guanti non stanno prendendo i per 5 raga mannaggia la miseria due minuti e mezzo grazie piccoli 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 grazie ragazzi siamo proprio sotto a 800 treni grazie scuderia è sparito scuderia mannaggia la miseria 650 mila punti raga i guantoni li devono usare soltanto quelle persone che donano tanto non le roselline ragazzi perché li prende è sicuro e per certo grazie ragazzi grazie comunque stiamo perdendo ma ma 672 mila punti come fai oddio ebbè lui mi può tenere acceso ragazzi grazie dio 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 grazie 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 piccoli un altro guantone cliccate sul guantone raga cliccate sul guantone grazie piccoli grazie piccoli grazie 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 è la nebbia è arrivata la nebbia sfruttate sfruttate è la nebbia grazie piccoli 30 secondi e Claudio se ne è andato ragazzi qua da me è tutto legit grazie 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 piccoli ragazzi erano troppi punti di differenza però grazie e complimenti al vincitore grazie mi hai fatto arrendere già inizio mezzo mi hai fatto addio e mi chiedevi se c'aveva i guantoni ma no ma per quello perché io preferisco sempre giocare senza i guantoni perché è più bella la partita capito perché comunque se va un guantone male con un tiktok ti rovina capito quindi per me è più bello giocare senza poi gli altri possono fare quel che vogliono ah ho capito ho capito va bene dai comunque perdonami del risultato no tranquillo sei arrivato manco li riesco a contare quei punti tranquillo comunque ti faccio i miei migliori auguri anche per me auguri a tutti i tuoi sotto al rullo sempre educazione e rispetto Mary sì questo sì sempre sempre grazie di cuore grazie a te e ancora tanti auguri ciao ragazzi è andata male anche stavolta che dobbiamo fare è andata male anche stavolta però grazie perché mi avete supportato una cosa che mi è dispiaciuta un sacco sapete quelle ragazzi che mi sono dimenticata di registrare la live quindi non ho registrato niente e non c'erano tutte quelle persone in live che mi potevano sopportare ho visto quindi vabbè raga fa nulla grazie a tutte le persone che mi hanno voluta sopportare ragazzi non fatevi grazie 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 davidino grazie stefano no io registro sempre anche quando perdo perché comunque il supporto c'è dall'altra parte il fatto che io perda non vuol dire che io non non ci ricavi nulla il supporto c'è purtroppo mi sono dimenticata ragazzi di di registrare quindi non possiamo fare nulla se qualcuno fra di voi ha registrato mi può mandare la live e poi la mettiamo ok però io mi sono dimenticata raga abbiamo perso la stracante ma non fa niente si ma non compaiono le donazioni a schermo claudio mi grazie per l'alberello è finito il match dove stavi cla ragazzi abbiamo fatto un match ufficiale non posso andare a fare altri match adesso cioè aspettate ciao veronica grazie per il supporto tesoro mio grazie claudia aspetta comunque abbiamo perso non mi ricordo quanti punti ho fatto tipo sui 20.000 contro 670.000 punti ragazzi cioè inarrivabile inarrivabile non so se 22.000 punti ho reso l'idea cla mannaggia cla si ne farò in futuro altri oh raga ma non mi sentite quando parlo non posso fare match adesso appena startato si ragazzi è ovvio che sono organizzati e cioè io ad un certo punto non ho mandato nulla perché era assurdo di là e questo è un errore ragazzi che si commette purtroppo perché gli altri non guardano il punteggio gli altri se vogliono supportare lo fanno se voi volete supportare sempre se volete supportare e guardate che c'è troppo dislivello di punti è inutile farlo il match perché siamo tanti non potete sapere le altre cosa o quanto possono donare quindi per questo si dice l'unione fa la forza però non fa niente raga abbiamo perso ma dignitosamente non vi preoccupate questo è il terzo che facciamo il quarto che facciamo e il terzo che perdiamo non importa ragazzi ci sarà il momento in cui riusciremo a vincere io vi ringrazierò sempre 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 penso che c'è qualcosa di strano vabbè raga io non non dico niente perché io rimango sull'egit come dice Davide non dico niente ho perso ma c'ho tutto guadagnato quindi a buon intenditore poche parole ragazzi non mi fate andare oltre continuiamo con l'SMR ragazzi ho appena fatto un match ufficiale qualcuno può scrivere ho appena fatto un match raga un match grazie Dio tesoro mio peccato ragazzi che non stavo registrando vabbè adesso più tardi lo facciamo il match ora facciamo pausa perché siamo appena usciti da un match ufficiale ragazzi ok a parte che non vedo ah sì ok ciao 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 dio perso raga perso grazie dio dio sì 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 non ho registrato nulla mi sono dimenticata tecnica di rilassamento tv che eviterò niente di rilassamento con l'assamore che poi dopo ne facciamo altri grazie Cristina non ci fossilizziamo ragazzi sul fatto che abbiamo perso si però non escono le donazioni si vede solo la live basta si allora ragazzi non caschiamo dalle nuvole io non ho alcun team di io do a te tu dai a me ok sono stata chiara grazie Simone quindi non posso vincere capito? perché io mi baso sulle donazioni reali non scambi che vengono fatti quindi ho molte più probabilità di perdere io rispetto a chi ha una coalizione ben strutturata di io vengo da te tu vieni da me io vengo da te tu vieni da me capito ragazzi? grazie Anna perciò dico non ci fissiamo non vi fissate ma io mi devo levare una curiosità allora no ok eh sì esatto ragazzi meglio perdere in maniera onesta è anche un lavoro oh ragazzi ma aspettate un po' abbiamo appena terminato l'11.5 un match tostissimo con milioni di donazioni aspettate ha vinto lo sfidante eh i premi della classifica non ci fissi uno è organizzato da tiktok gli altri sono amichevoli organizzati da noi ma scusate raga togliamo questo così quindi non mettiamo dubbio ho tolto il coso del match altrimenti la gente che entra in live si disorienta ciao Pierone l'abbiamo perso ragazzi ma l'abbiamo perso proprio in maniera tosta erano 630 650 mila punti contro me che ne ho fatti 22 mila che sondaggio comunque vi rinnovo ancora i miei ringraziamenti ragazzi guardiamo il fatto che ho perso ma non si può evitare di guardare una cosa io questa sera ragazzi ho ricevuto tanto supporto e ho notato che quelli che veramente mi vogliono supportare hanno continuato a donare nonostante io ero in perdita quindi non pensate che io non le noto ste cose le noto perché io vedevo gente che donava nonostante ci fosse un dislivello pazzesco quindi grazie ragazzi mi voglio bene grazie mi è dispiaciuto un sacco non poter non aver registrato il match però adesso ho startato la registrazione per i prossimi match che andremo a fare ok Claudio che ti sei perso anche Rosy stasera aveva il match ufficiale raga no Claudio no mi ha stracciata alla grande poi io ti chiamavo tu non c'eri ho detto ma dove è finito mi hai fatto venire un infarto eppure io ho perso ragazzi con chi era Rosy il match sì ma non escono le donazioni ragazzi Clambo è finito di guidare Claudio sono rimasta male male ho perso stasera sì ma è arrivato ah Lucchi ma tu hai mai visto la mia live no talking no e non credo che le vedrai più e vabbè dai non fa niente ma andiamo a fare altri match se vuoi sì ragazzi ho perso io avevo 22.000 lo sfidante 600 e qualcosa ma sai che significa io voglio la sora che significa la scherco della sora erano 600.000 ragazzi la suora no quando andiamo dagli stranieri non ci dai guanti l'ho notato ieri ho quasi stranieri in live che succede la suora adesso la suora non c'è e se c'è impegnata no non c'è la suora almeno non mi compare che poi è un suoro Claudio e l'ho non scappare via peccato che sia andato via con moltiplicatore potevamo fare un bel po' di cose no no stavolta chi si muove Davide prima ti ho detto vai a chiamare scuderia e tu hai detto dove lo trovo io che gli ho mandato il messaggio Claudio un mese mio marito che fa amore sono qui in live non so se vi siete accorti che Claudio scrive sono qui non tu mamma mia io ad un certo punto così stavo qui e guardavo quei punti che salivarono lì più di me mamma mia e vabbè allora prendiamo la retina facciamo i pensieri negativi che prigli Prende tu pensieri negativi e dagli Aspettate un attimino Prende tu pensieri 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 Prende tu pensieri